Luca Pellegrini torna al centro per centro storico, edizione numero 4, una bella edizione con tante novità. Abbiamo quest'anno, grazie alla riapertura anche di parecchie strade all'interno del centro storico, abbiamo avuto la possibilità di allungare di parecchio il percorso, quindi arrivare fino a Piazza Mazzini, zona Mercatini. Poi abbiamo avuto la possibilità di aprire questa magnifica location, che negli anni scorsi rimaneva fuori percorso, splendido allestimento per quanto riguarda il museo del calcio, poi con l'agriturismo con le cera, Marchesi de Cordano, grazie alla collaborazione con l'associazione Oneiro, l'olio pretoli per Luigi Pace, avete creato veramente una situazione piacevole. Invece nel centro storico che cosa si può trovare? Abbiamo tre stand principali per quanto riguarda cibo, ogni stand ha comunque sempre a sé quel calendario musicale, quel programma musicale per tutte e quattro le sere, inoltre abbiamo dislocato per tutto il percorso, diversi artisti, artigiani, pittori, c'è parecchio da vedere quest'anno. Il clou è sicuramente la Notte Bianca di sabato 29. Notte Bianca sicuramente, prevista la cover band Pink Floyd, poi Studio 54 e DJ Daniele Di Carlo, poi per proseguire a domenica ci accompagneranno i Demodè, una cover band ufficiale dei Depeche Mode.